Le grotte di Pertosa Oletta accessibili a tutti con diversamente speleo, domenica tante emozioni grazie all'iniziativa pensata per abbattere ogni barriera fisica ed ogni pregiudizio, unendo alla solidarietà la passione per la speleologia e la conoscenza dell'ambiente ipogeo. Il gruppo Speleo della sezione di Salerno del Club Alpino Italiano dalla 2017 sceglie le grotte di Pertosa Oletta per un appuntamento che è un'opportunità di condivisione e inclusione dove la passione per la natura e l'avventura abbattono ogni barriera. È un appuntamento ormai consolidato che ogni anno regala a persone speciali l'opportunità di entrare in grotta. Domenica ha visto 170 presenze tra diversamente speleo, accompagnatori e associazioni varie che hanno dato l'opportunità ai giovani speciali di vivere una giornata da veri e propri speleologi assistiti nell'escursione da tanti volontari. Hanno aderito anche le associazioni Ascoltami di Polla, Ecolibri di Caggiano e la squadra del Sentiero Baskin. La manifestazione è sempre incentrata sul tentativo di dimostrare che la bellezza della natura non conosce barriere e se si superano gli ostacoli dentro di noi si può raggiungere l'obiettivo. Qualcuno arriverà prima, altri dopo, ciascuno con il suo passo. Un posto magico che parla da solo, accessibile a tutti, senza nessun tipo di barriere, anche grazie a persone meravigliose e il commento dell'associazione Ascoltami. Una bellissima giornata trascorsa insieme, grazie a tutti gli organizzatori, dicono da Colibri. Abbiamo vissuto un'esperienza unica e indimenticabile, raccontano dalla squadra di Baskin. Le grotte di Pertosa Oletta hanno fatto da sfondo ad una giornata all'insegna dell'inclusione e dell'avventura. I nostri atleti, insieme a speleologi esperti e agli altri partecipanti, hanno esplorato le meraviglie sotterranee, scoprendo la bellezza nascosta di questo incredibile patrimonio naturale. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza. Tornando alla luce del sole, portiamo con noi non solo il ricordo di splendide estallattiti e stalagmiti, ma anche il valore dell'inclusione e della condivisione.